Allora questo è il depuratore d'acqua brita, questo è il coperchio che ha stretto contatto con l'acqua, quella da depurare, che sta in questa zona qui, fosta. Dopodiché una volta depurata, diciamo questo è tutto più o meno lo spazio che occupa l'acqua depurata all'interno. Come potete vedere, levando il coperchio, rimane questa che è praticamente la camera di sosta dell'acqua, prima di essere depurata. Ora la esco un attimo così ve la mostro, almeno parzialmente. E questi led che vedete, è un'installazione che ho fatto io, un'aggiunta, sono dei led UV, perché la luce UV, come sapete, è in grado di uccidere buona parte dei virus, almeno il 99% dei virus, una cosa simile. Ora lo ricordo per centone esatto. Per mezz'ora basta, 40 minuti al massimo proprio, per, diciamo, sterilizzare l'acqua, per virgolette. Poi in realtà ho dei cicli che ogni tot si attiva, ma quella è una roba mia a parte. Detto questo, questo è il filtro, dopo tante filtrate d'acqua, ok, che se vedete nella superficie è tipo sporco, è giallino. Questi sono dei carboni attivi, misti a delle sfere bianche di materiali di supporto ceramici o polimerici. Ok, la loro funzione è quella di essere un filtro aggiuntivo ed inoltre mitigare la fuoriuscita di polvere dei carboni attivi, che durante la loro funzione di filtraggio ovviamente si sgretolano. Adesso vi mostro un'altra cosa. Vedete questo contenitore blu, che probabilmente è dove l'acqua sosta prima di essere depurata. Prendo questo fazzoletto che è bianco, pulito, appena staccato, ok? Intanto lo passo prima qua sul coperchio. E questo è solo l'acqua che schizza sopra l'acqua che c'è dei rubinetti. È arrugginita. Ok, ora lo strofino per bene. Ripeto, questo è solo l'acqua che schizza sul coperchio. Guardate qua, questo rossiccio, giallino, arancione, come lo volete chiamare. È ruggine. Ora lo passo qui sul filtro. Vedete com'è sbianca, man mano. E guardate il fazzoletto. E l'ho passato solo qui sul filtro, no? Su tutto il... Il coso. Ora lo faccio pure qui. Guardate che roba. Ruggine. Ora ne stacco un altro pezzo che è bianco, ok? Pulito. E lo strofino qui nel contenitore, proprio nella parte blu. Già si può vedere, ecco. Ok. Questa è tutta ruggine. Che era nell'acqua che io ho messo qui da depurare. Va bene. Ora facciamo un altro tipo di esperimento. Prendo proprio la tank che contiene l'acqua depurata. Ok, stiamo parlando di acqua che si aspetta sia pulita. E infatti lo è. E qui lo dimostro. Questo è sempre il fazzoletto pulito. Ed ora lo passo qui nella tanica che è trasparente, ok? Vedete questo nero. Questo nero sono, come dicevo prima, i carboni attivi che durante la funzione di filtraggio si sgretolano e quindi andranno a finire nella tanica. Il che va bene perché comunque i carboni attivi sono carboni vegetali e non sono nocivi per l'uomo a differenza della ruggine. Ora vi do un'altra bella passata. Come vedi è solo nero, come potete vedere. Nero. Lo confranto con l'altro fazzoletto, quello della... Vedete la differenza? Ruggine, carboni. Quindi c'è stata una pulizia. Quindi proteggono. Quindi Geopop dice cazzate. Va bene. Perché l'acqua in effetti, questi fazzoletti dimostrano che è stata pulita. A destra abbiamo della ruggine, a sinistra abbiamo dei carboni attivi. Non c'è ruggine da quella parte. E se c'è proprio è talmente risorio che è quasi invisibile. Va bene.